Nella nostra vita e soprattutto da un punto di vista della salute, del benessere e della performance, una delle grandi capacità che abbiamo è quello di comprendere quanto sia importante mantenere un adeguato livello di ossigeno a livello cellulare. Noi mangiamo per produrre idrogeno e respiriamo per avere l'ossigeno, dalla combinazione di ossigeno idrogeno l'energia per la vita, ma cosa mangiamo e cosa respiriamo? Ecco che la nutraceutica oggi ci viene in aiuto perché modulare il consumo di ossigeno è indispensabile per le nostre cellule, per prevenire l'infiammazione, soprattutto per riparare i danni a livello del DNA mitocondriale o i mitocondri. Noi siamo certo quello che mangiamo e respiriamo, ma soprattutto dobbiamo fare in maniera che la nostra carburazione a livello cellulare mitocondriale funzioni in maniera ottimale. Uno dei prodotti più importanti al mondo è sicuramente self-food, ossigeno per la vita, il pass per il benessere, un modulatore fisiologico della domanda di ossigeno a livello cellulare che permette di ottimizzare l'apporto di ossigeno dentro le cellule con azione antiossidante 30 volte più elevata del plasma umano. Un prodotto con ricerca scientifica pubblicata su riviste internazionali da 53 anni sul mercato mondiale, da 24 anni in Italia. Self-food lo troverete sul sito www.selffood.it oppure in tutte le farmacie e negozi specializzati.